Siamo qui in diretta da Vulcano Buono, sulla pesta di pastinaggio con Claudio Ferreoli, Alcoso Bertolomo e Billy D'Antonio. Stiamo aspettando che entrino i grandi personaggi... Cosa è? Ma che voglio mettere? Perché dobbiamo mettere, Paolo? Dobbiamo inconorare questo evento. Eccoli, stanno entrando. Stanno per entrare. Se capisci il zoom dove sta, forse ve li inquadrerei, però qui il zoom non ci sta, quindi accontentatevi. Le entrate a sinistra, se riusciamo a inquadrarle, attenzione. Li vedo, li vedo, sono fenomeni. Nel mappomodo rosso che passa? Eccolo là, intanto, silenzio. E tu il zoom? Eh non lo so, clicca un po' cos'è là. E ora se porta? Se passa a nessuno. Cosa?